Aveva cominciato ad avvertire i primi malori subito dopo cena. Vomito, disturbi gastrointestinali, dolori diffusi nella zona dell'addome. Quando la situazione ha cominciato a farsi preoccupante, i genitori hanno chiamato il 118, ma all'arrivo degli operatori sanitari, il bambino era già in fin di vita. Una tragedia che lascia sgomenti quella accaduta a Chieuti, piccolo comune della provincia di Foggia, dove un bimbo di soli 8 anni è morto a seguito di un improvviso malore. Il piccolo, figlio di braccianti di origine rumena, era in casa con mamma e papà. Dopo aver mangiato una bistecca inizia a sentirsi poco bene. Vomito, diarrea, la situazione peggiora rapidamente col passare dei minuti. Così i genitori preoccupati chiamano i soccorsi. Sui tempi di arrivo dell'ambulanza sulle procedure seguite dal personale medico alla luce dell'emergenza coronavirus in corso, ci sarebbero tesi contrastanti. Fatto sta che quando gli operatori del 118 giungono presso l'abitazione del bambino, per lui è già troppo tardi. Non c'è ancora certezza sulle cause della morte. Tra le prime ipotesi, quella di una peritonite o di una malformazione cardiaca. Una risposta arriverà solamente dopo l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore a Sansevero, dove è già stata trasportata la salma del piccolo. Come da prassi, in questo particolare periodo, al bambino è stato effettuato anche un tampone post-mortem per verificare un possibile contagio da Covid-19. L'esito del test non è ancora noto, ma l'ipotesi sembrerebbe esclusa. Di questi tempi, purtroppo, non si muore solo di coronavirus.